Aria pulita, ampi spazi e possibilità di praticare svariate attività outdoor. La montagna nel post-lockdown è divenuta una delle mete più gettonate per coloro che dopo mesi di quarantena forzata scelgono di trascorrere intere giornate all'aperto o desiderano concedersi una camminata immersi nel verde. Istanti che devono essere vissuti tuttavia con la massima cognizione e che proprio per il carattere selvaggio intrinseco al territorio montano a seguito dell'allentamento delle restrizioni hanno spinto il CAI Club Alpino Italiano a diramare una serie di raccomandazioni al fine di prevenire il contagio e vivere così gli itinerari naturalistici in tutta sicurezza. Nel momento in cui si riprende gradualmente la frequentazione della montagna sono infatti necessaria un'accentuata cautela e l'adozione di comportamenti responsabili che innanzitutto si traducono nel rispetto dell'istanziamento fisico. Per prima cosa l'adesione puntuale alle disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale a tutela della propria salute di quell'altrui. Non meno importante una valutazione sommaria delle proprie capacità e condizioni fisiche optando per itinerari adeguati alla propria preparazione, preferibilmente al di sotto del livello abituale. Permane invece come da prassi la raccomandazione di informarsi sulle caratteristiche del percorso scelto, sulle previsioni meteorologiche e sulla presenza di strutture di accoglienza aperte al pubblico. Fortemente suggerita è inoltre l'occasione di andare alla scoperta delle valli e dei borghi più vicini così da portare alla luce bellezza inaspettate evitando gli assembramenti. Sconsigliate al momento restano invece le attività più impegnative che richiedono l'uso di attrezzature alpinistiche in comune e distanze ravvicinate. Altro consiglio, percorrere con prudenza l'itinerario scelto seguendo i sentieri segnalati usando la mascherina in caso di incontro con altre persone. Assolutamente fondamentale invece ricordare che in caso di incidenti l'eventuale soccorso già impegnativo in virtù di luoghi tutt'altro che accessibili è reso ulteriormente critico dalla necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti soccorrono dal pericolo di contagio. Last but not least, ultimo ma non meno importante, tenere bene a mente che i luoghi montani sono sia occasione di svago e benessere, ma rappresentano anche la casa delle popolazioni che vi abitano. Un ventaglio di buoni consigli per vivere la montagna in sicurezza a 360 gradi.